Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Akermind e questo è il mio primo tutorial In questo tutorial vi insegnerò come scaricare un bel giochino, si chiama Trackmania Nation Forever Ed è un giochino che avrei voglia di portare anche a fare dei video Per l'appunto un gioco che è di auto come al solito, a me piacciono i giochi di auto E niente, vi voglio spiegare come scaricarlo il più facilmente possibile Andate su questo link che vi lascerò in descrizione e downloadate sul desktop la cartella Ci metterà una decina di minuti, intanto io l'avevo già scaricato Eccolo qua Lo eseguite e semplicemente vi si installerà il giochino come niente Come potete vedere si installa facilmente, vi chiederà bla 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 questa roba qui Cliccate ok, fate avanti, accetto, avanti, avanti, sì avanti sempre Qui ok, tutto a posto e installate Per l'appunto questo gioco volevo portarlo anche sul mio canale In quanto io, Maccio e Aless abbiamo visto che ci si fanno delle belle garette E' un misto fra un gare insani di GTA e un Mario Kart con una bella risoluzione Quindi spero che il video vi piaccia e possiate installarlo anche voi Come potete vedere Come potete vedere si si mette non troppo Quindi Eccoci qui E installati Ehm Ehm Ok Adesso l'ha Installato In teoria Perché sta ancora qua a caricare Che l'ha fatto sul destro Questo è un film Oh eccolo qua Si fa gioca Ehm Il gioco sarà installato Vi chiederà di fare Di crearvi il vostro piccolo account Ehm Tutto quanto funzionerà Quindi non c'è nessun problema di compatibilità Ehm Adesso Dunque sia funziona E va tutto alla perfezione Vediamo Oh ok C'è anche il mio profilo qua Qua ti l'avevo già fatto Sperando che Si veda Il tutto Ehm Che dirvi ragazzi Commentate Condividete Ed iscrivetevi Io sono HackerMind E da questo video è tutto Ciao A tutti Ehm 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 Ehm